hai parlato troppo freddo è troppi bizzarrito come mostra per me guarda che rischi la tua moto è spampi no guarda dov'è e guarda dove scende ti conviene toglierla perché se scende così te l'accenda anche la tua è mica tanto è perché la vedo di vedi la vedo brutta e adesso fare quel lavoro qua eh ma che cazzo di gambe o no così se gli scappa via acceleratore viene giù a missile beh però ce l'ha fatta in un modo o nell'altro beh scendere non la salire grazie a salire ho visto qualche problema grazie a salire ho visto anche la salire ho visto anche la salire ho visto anche la